In occasione della visita di Papa Francesco a Palermo, i cittadini che abitano nell'area del porta a porta non potranno effettuare la raccolta differenziata. Lo stop al conferimento riguarda sia le utenze commerciali sia quelle domestiche. Per i primi, il divieto di esporre i rifiuti differenziati è previsto venerdì e sabato prossimi, mentre i secondi non potranno disfarsi della frazione residuale non riciclabile venerdì sera. Il provvedimento si è reso necessario per via di una manifestazione di giovani fedeli in piazza Castelnuovo a partire dalle 18 di venerdì e per tutta la notte, che prevede l'installazione di un palco all'angolo tra via Ruggero VII e via Medico Amari. Lo annuncia il Comune specificando che la RAP provvederà a sopprimere temporaneamente le campane della raccolta differenziata lungo il percorso previsto per il passaggio del Santo Padre. L'amministrazione comunale ha varato anche il piano degli interventi che precederanno e seguiranno la visita pastorale del Pontefice. In campo le società partecipate e settori comunali. La Reset si occuperà di preparare il Prato del Foro Italico in occasione della celebrazione eucaristica, con il montaggio del palco e degli impianti audio e luci e di risistemare l'erba una volta smontato tutto. Il Prato del Foro Italico sarà disinfestato dalla RAP 48 ore prima della visita di Papa Francesco, ovvero entro giovedì. Ma non è tutto perché l'AMAT attiverà anche un servizio di bus navetta per tutta la giornata di sabato 15 settembre, dalle aree parcheggio individuate ai luoghi interessati dalla presenza del Papa. Dal 10 al 16 settembre inoltre verranno sospesi tutti i cantieri lungo il percorso. Sabato invece è stata disposta la chiusura del mercato ittico e del mercatino rionale che si tiene nel quartiere Oreto. Resteranno chiuse anche tutte le scuole di ogni ordine e grado, università compresa. Le strade interessate rientrano nel perimetro compreso tra Piazza Mordini, Via La Farina, Via Principe di Villafranca, Via Dante, Piazza Mendola, Piazza Vittorio Emanuele Orlando, Via Volturno, Piazza Verdi, Via Cavour, Via Roma, Piazza Sturzo, Via Isidoro Carini, Via Archimede e Via Libertà.